buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar organizzato da rete informatica lavoro sono maria luce villa brand manager di performa group e mi occupo delle attività di marketing ed eventi di rete informatica lavoro mi sentite vedete correttamente facciamo le classiche prove tecniche prima di partire ok ciao umberto buonasera perfetto ci sentono mi sento in realtà ok allora prima di andare avanti con il webinar di questa sera volevo darvi un aggiornamento allora sta andando avanti il discorso della nostra survey abbiamo pubblicato sui nostri canali social gli abbiamo inviato via mail la nostra survey dove potete consigliarci tematiche nuovi sviluppi del portale servizi nuovi criticarci che ci sta anche e collaborare con noi insomma quindi secondo me è molto interessante stanno venendo fuori veramente interessanti idee e consigli anche per questi webinar che facciamo ogni giovedì quindi io già che ci sono ve lo ricondivido così nel frattempo durante il webinar all'insaputa del relatore potete compilare questa survey che è veramente breve ok allora andiamo avanti il suo precedente webinar sulla illegalità di google analytics a cosa è stata casualmente concetto ha coinciso con la notizia dell'ammonimento di un'azienda italiana da parte delle garanti della privacy non era veramente in programma quindi siamo stati stupiti anche noi e questo quindi è ancora un argomento caldo quindi ve lo consiglio se ve lo siete persi vi consiglio dovete andare sul nostro canale youtube youtube e rivedere la registrazione mentre oggi con lui parleremo sempre delle criticità di google form e magari vedere alternative open source quindi entriamo subito in argomento lo ritroviamo questa sera valere bozzolan direttore d'italia lini society ciao maria luce grazie ancora per l'invito grazie ben tornato ben tornato hai fatto a casa ma vabbè dopo l'ultimo webinar hai scatenato porca mia una nucleare come dicono alcuni è stato veramente incredibile ma perché ripetiamolo dopo l'invito che comunque abbiamo organizzato cioè avete organizzato da tempi non sospetti cioè quando era gennaio febbraio forse anche prima nel 2021 comunque era da tanto tempo che avevamo pianificato questo webinar di qualche settimana fa su google analytics non è che ci aspettavamo che finito il talk due ore dopo il garante della privacy lancia su tutte le testate giornalistiche no a google analytics togliete google è stata veramente una cosa incredibile e adesso lo diremo ancora durante durante il nostro talk perfetto quindi ne parlerei ancora bene allora ti chiedo come sempre in 20 secondi cosa vedremo questa sera ah siamo qui seduti sul divano dove possiamo stare comodi a sentire parlare un po di google form ma non benissimo perché insomma lo usiamo tutti però il problema è che ieri il garante si è espresso su sta roba qua poche settimane fa ma è probabile che si esprima su altre tecnologie quindi comunque essere qua insieme a discutere un po su cosa c'è di alternativa non è male ecco perché sicuramente ci guadagniamo in salute se poi riceviamo 6.000 telefonate quando si esprimerà di nuovo il garante questa a mezzanotte di oggi su google form o qualcosa del genere va bene dai e quindi 60 minuti alla fine verso la fine del webinar ci saranno le domande quindi se avete dubbi curiosità scrivete nella sezione domande io ho utilizzato un google form vabbè tra parentesi per la nostra sala va bene dai buon webinar a tutti ci vediamo più tardi ciao mary luce allora eccoci qua dico subito che queste slide parlano di google form e line survey quindi chiaramente ci saranno dei contenuti che per citazione sono dei piccoli screenshot in bassa qualità di google form e anche di line survey di line survey invece li ho messi belli in alta definizione perché comunque è un software libero e quindi posso liberamente mettere in alta definizione lo screenshot e abbiamo fatto così quindi se poi vorrete riascoltare questa presentazione che i nostri amici di rete informatica lavoro rilasceranno in licenza libera come la volta scorsa benissimo e quindi ci rivediamo anche poi nei giorni scorsi a loop per quando riascoltiamo tutte le cose che abbiamo perso in questi momenti ricordiamo che in questo momento sono invitato in qualità di direttore dell'italian linux society che l'associazione italiana più grande di volontariato per la promozione del software libero in italia ci siamo dal 1994 e se per caso a ottobre non avete nulla da fare come me e il 22 ci possiamo rivedere in una città italiana come milano oppure torino oppure qualsiasi altra città da cui provenite probabilmente stanno organizzando un linux day da voi il 22 ottobre questa conferenza un po particolare decentralizzata in cui nello stesso giorno 60 70 città italiana e spesso fanno questo evento e bene andiamo avanti eri sempre a me piace fare questa parentesi non sono uno speculatore di borsa di google form non sto adesso tirando pietre su google form per avere qualche beneficio non sono neanche un qualche certo riti strani di lime survey ogni mattina prego una statuetta di lime survey sul comodino non sono nulla di tutto questo non sono neanche un consulente fra l'altro non sono un lavoro in una società una software house del piemonte che non si occupa di queste cose e quindi sono veramente in questo momento abbastanza neutrale per dire quello di cui parleremo oggi che è protezione dei dati libertà digitali eccetera eccetera vedo che invece questa sera ci sono moltissimi consulenti informatici li saluto tutti anche chi sopporta la partita iva che l'ho passata per un po e finché non mi sono venuti i capelli bianchi per pagare l'inps eccetera quindi una panca sulla spalla tutti vi stimo vi incoraggio torniamo a noi scusate per la parentesi l'altra settimana forse due finito il nostro webinar su google analytics parte la bomba atomica del garante della privacy che ha rilasciato questa notizia ma tutti noi non eravamo molto preparati cioè abbiamo seguito questo webinar di google analytics e vabbè dai ci saranno dei problemi ma vabbè non importa assolutamente e appunto non ci aspettavamo questo cannone sparato appunto non in un giorno completamente casuale ma appunto il 23 di giugno che esattamente lo ripete guardatelo perché io ancora non ci credo è esattamente il giorno del nostro webinar scorso in cui parlavamo abbastanza male di google analytics e non so se avete visto sui social ma c'erano hashtag in cui se uno cliccava vedeva veramente i i meni più allucinanti su questa vicenda e qui il mio preferito è quello è arrivato alla diffida chiamami il dpo ma è lei il dpo cioè ognuno è un po' impreparato e questo era veramente eccezionale secondo me comunque parte di questo movimento ripetiamolo è spinto da questo gruppo di volontari che si chiama monitor a pa che ho messo qua nella slide che è questo gruppo di volontari che cerca di spingere le pubbliche amministrazioni non tanto i privati rompono le scatole innanzitutto le pubbliche amministrazioni per far sì che ci sia una presa di conoscenza di di coscienza di altre cose che iniziano per quello lì finisce con l'operenza che credenza che abbiano a che fare con il rispetto del gdpr e quindi decrementare l'uso di strumenti che principalmente prendono i tuoi dati e li sparano negli stati uniti a volte senza grossi motivi ecco avevamo citato i google phones google analytics stesso chiaramente tutte queste cose sono rimpiazzabili abbastanza facilmente fermiamoci un attimo non tutti hanno potuto leggere la trafila che ci interessa del garante ripetiamolo che il garante ha detto che l'indirizzo ip di per sé già basta anche solo quello per dire che tu stai collezionando un dato personale perché perché chiaramente se se sei google l'indirizzo ip basta avanza per dire chi sei spesso e col fatto che in realtà poi non mandi solo quello ma gli mandi il tuo browser il tuo sistema operativo la tua lingua insomma è veramente una situazione difficile se sei google in questo momento perché una società così grossa che ha così tanti prodotti così tanto interconnessi così tanto centralizzati in questo momento credo che nei loro uffici abbiano qualche grattacapo per capire come ridurre appunto il grado di centralizzazione verso gli stati uniti di tutti i loro servizi quindi adesso questo punto non era lo stralcio del garante e in breve viene detto di toglierlo cioè se avete degli strumenti che prendono i dati dei vostri utenti e a caso senza neanche avvertirli prima ancora che possano interagire prendete questi dati e gli sparate negli stati uniti non voi ma uno strumento che in uso per esempio sul sito questa cosa non è corretta secondo il garante della privacy questa cosa non è corretta la soluzione a lungo termine quella breve e rimuovere questo strumento la soluzione a lungo termine migrare a qualcos'altro per esempio siamo qui per sentire parlare di software libero magari messo sulla propria infrastruttura che adesso un hosting da due euro ognuno ha il sito aziendale quindi dove mettere un sottosito aziendale è abbastanza semplice uno in un sottosito aziendale mette uno di questi strumenti liberi per esempio non è una sorpresa invece che le persone dicano sì ok il garante si è espresso su google analytics 3 però io uso google analytics 4 che combinazione è uscito da poco e sicuramente aveva risolto tutti i problemi del mondo non avrò assolutamente nessun problema con questo strumento perché non è cambiato tutto rispetto a google no la risposta breve secondo me è non credo perché come dice lo stesso uno dei quattro garanti della il collegio dei garanti è abbastanza difficile immaginarsi che semplicemente cambiando il numero di versione fornendo più funzionalità ma mantenendo il dominio mantenendo tutta quella serie di strumenti si sia in regola quindi chiaro adesso per saperlo sarebbe meglio rifare l'indagine però io non lo consiglierei ecco questa non mi sembra una soluzione su cui basare tutta la propria impresa il proprio rischio aziendale insomma quindi e voi direte la versione 5 invece vabbè andiamo avanti non sei stesso discorso siamo qui per parlare di google form facciamo l'inversione google form google form google form lo usiamo tutti tanto qualcuno l'ha già compilato sei minuti fa google form è veramente dappertutto uno strumento radicato nella nostra cultura ce lo troviamo dall'organizzazione delle feste di compleanno dei nostri pargoletti ad anche cose un pochino più avanzate ho visto per esempio comuni italiani mandare google form ai cittadini per sapere informazioni sui loro trasporti stessa cosa però ho visto anche il comune di torino almeno cinque anni fa forse forse di più che aveva mandato un lime survey invece a tutto il piemonte per sapere come si spostavano di tragitti le persone quindi comunque diciamo che adesso cioè le persone se uno cerca un'alternativa già la trova non è che dobbiamo dirla noi che esistono alternative però google form è veramente ovunque questo è un sito molto interessante similar tech.com che mostra l'adozione di questo strumento in tutti i siti del mondo presupponendo che un sito .com sia in stati uniti e un sito .it sia in italia e vediamo che insomma i numeri non non sembrano così alti ma prendiamo in realtà questo qua non è un sito che raccoglie tutti i siti del mondo questo qua è un sito che raccoglie i principali quindi però i principali sono grossi quindi prendiamo per esempio l'elenco dei di qualche sito che secondo questa in questo inventario usano google analytics scusate usa google form e vediamo per esempio questa testata giornalistica 1 2 3 4 5 6 la settima elencata al mondo che insomma non è la prima è la settima che già lì fa 19 milioni di visita al mese e usa google form quindi comunque basta un sito che si crea comunque un certo traffico verso google form e questa era solo per buttarla lì non non è che dobbiamo per forza contare i siti del mondo tutti che usano google form nella vita moltissima gente lo usa ed è difficile anche scansionarli questi siti perché magari google form lo metti e poi lo togli cinque minuti dopo dopo che l'hai concluso quindi non è facile indicizzarlo quindi aver indicizzato tutti quei siti con google form non è poco dicevo per certi usi ci rendiamo conto che stride qualcosa è per certi usi tipo se siamo un ente governativo e dobbiamo fare una bella raccolta delle persone che non so tipo il nuovo edward snowden che trova problemi nella sulle informazioni dei abusi di potere dei servizi segreti che ne so ecco questo tipo di forma in cui prendi dati personali sensibili di persone a rischio magari non le metti su google form perché metti questi dati alla mercè poi di tutte le a mercè del tutte le basi legali che ha sono state erette negli stati uniti per far sì che se ci sia un problema legale la n6 eccetera possono accedere a questa informazione anche se voi siete in italia a compilare questo formulario quindi insomma le basi legali non non permettono di creare uno strumento così sensibile con google form e dormire a sonni tranquilli ecco soprattutto se sei tu che compili con informazioni a cui tieni molto come magari non mi dilungo però un altro problema di google form è che non è uno strumento come un altro che non è che vado dal ferramenta mi vende un martello però è google mi ha venduto un martello google sono dei maledetti cioè no il problema non è tanto quello che mi dà uno strumento il problema è che questo strumento è pesantemente collegato a tutta la sua infrastruttura centrale adesso il tasto loggati con google è già il primo indizio però chiaramente uno può dire basta non cliccarlo no quel tasto loggati con google ma ragazzi qui ci sono uno dei tecnici informatici cioè il dominio di google form è questo qua docs.google.com .google.com questo significa che se uno come avevamo fatto due settimane fa se uno ha presente come funziona un cookie cioè io vado da un sito mettiamo sito.com il sito mi identifica mi dà un braccialetto che è il mio cookie da quel momento io torno indietro e mi riconosce sempre e sa chi sono ma nel momento in cui ho un docs.sito.com se voglio è la stessa cosa nel senso che non è che è un sito diverso cioè quello stesso cookie di prima quando visitavo google lo do anche lo stesso cookie a docs.sito.com adesso non è proprio così ma in pratica è così cioè come funzionano i cookie sono separati per dominio quindi rigidamente separati per dominio quindi se visitate altro sito.net non è che gli date le stesse informazioni di identificazione che avete su sito.com sono due siti diversi il problema è se avete appunto un sottodominio questo invece è facilmente condivisibile ed è quello che avviene e quello che avviene ripeto molti qui sono sviluppatori ma per chi non lo fosse chi ha davanti una tastiera chi ha davanti un tasto f12 sulla tastiera lo premete andando su google form andate sulla scheda storage che vi mostra cosa sta facendo il vostro computer vostro browser visitando google form e vede che avete appena ricevuto vedete le prime tre righe che sto evidenziando sotto domain vedete che quelle prime tre righe sono come tre braccialetti che non avete ricevuto da google form ma avevate ricevuto settimane prima da google quindi andando su google form avete la stessa identica identificazione di google quindi mentre vedete sotto ci sono altri cookie specifici di google form che invece rimangono lì però di per sé adesso spero che non mi copiate questi cookie se no mi rubate la sessione vabbè scherzo e comunque di per sé il punto è questo google form non è uno strumento come un altro è uno strumento pesantemente allacciato google non era così verissimo invece con google analytics perché se io visitavo google analytics non c'era questo match uno a uno in cui se sono un utente google allora sono visitando google analytics google sa che ero lo stesso cioè non era proprio così google riusciva a capirlo perché collezionava talmente tanti dati che alla fine mi poteva trovare ma in questo caso è un'identificazione uno a uno cioè se visito quello è come se avessi visitato google e molti 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 moltissime persone poi sono sempre 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 loggate in google cosa che comunque non è consigliabile soprattutto se non si usa tutta la suite di google è carino come impostazione del browser digli elimina i cookie all'uscita così ogni giorno sono almeno ogni giorno almeno una volta al giorno mi sembra sano sloggarsi e questo comunque è una piccolissima protezione che sicuramente interessante discutere e questo è un discorso quindi gli errori cioè il problema google form è possibile che prima o poi ci venga venga sollevato da magari un garante di qualche nazione magari la nostra presto magari stasera a mezzanotte no vabbè scherzo comunque è possibile perché effettivamente non c'è nulla di quello che abbiamo detto che si prenda cura di tutte le cose che sono state criticate in google google analytics anzi è peggio c'è dipende però non è proprio meglio ecco pausa punto altro discorso molti usano google form ma come se fosse un una caramella che la apro la mangio c'è non leggo le istruzioni non è proprio così attenzione io lancio questa campagna non bere mentre usi google form questo fa un po ridere perché alcuni fanno dei questionari che per carità tipo iniziano a chiedere dammi l'email dimmi se partecipi dimmi se vieni se paghi se prendi il drink se prendi il cocktail e poi in sfondo magari arriva il personale della realizzazione dell'avento dice ma però io vorrei sapere se c'è un giusto bilanciamento delle persone di genere uomini donne così mettiamo qualche domanda di questo tipo in fondo ecco questo infine si inizia ad avere un problemino quando inizia ad avere l'email il nome e l'orientamento sessuale delle persone ripetiamo non è una buona idea metterle nello stesso questionario separiamo i questionari o comunque non è una buona idea andare su google form e spuntare questa opzione che vedete qua evidenziata visualizza il riepilogo dei risultati se avete domande aperte e uno mette visualizza l'epilogo dei risultati in realtà uno si aspetta vabbè mostrerà dei grafici quanti hanno risposto sì quanti hanno risposto no sì ma quanti hanno risposto che mi piacciono queste persone e quanti hanno risposto l'email verranno scritti poi tutti lì elencati quindi facciamo molta attenzione a leggere questa è solo una spunta ma anche le altre comunque bisogna saperlo usare facciamo attenzione alle opzioni che abilitiamo in google form perché a volte siamo noi che creiamo dei mostri da un questionario che sembrava semplice è un questionario che diventa rivelare al mondo tutte le informazioni sui miei partecipanti perché ho messo questa opzione quindi non beviamo un saldo google form prima si usa google form poi si fa una pausa poi si beve poi si fa una pausa poi si usa non insieme facciamo questo vabbè a parte gli scherzi perché è successo non è che dico che non è successo è successo è successo a una grossa organizzazione no profit che inizia con una lettera e finisce con media è successo non che un questionario di questo tipo venisse fatto con su google form dato alla community la community ha riempito di informazioni anche sensibili questo google form e comunque personali sicuramente informazioni personali e poi con quella spunta uno poteva vedere tutte le risposte di tutti per fortuna è stato sono stati avvertiti i reparti legali ed è stato interrotto in fretta il questionario ho risolto però insomma non vorrei che ci trovassimo nella stessa situazione piccola parentesi la im survey non ha un'opzione del genere dove tu la spunti senza pensarci su e fa un disastro del genere io non l'ho trovata su questa cosa ma torniamo torniamo a google form google form trasferisce dati personali negli stati uniti questo lo dirà il garante ma negarlo è veramente difficile cioè è veramente difficile ma veramente difficile quindi scusate se prendo la pausa per respirare ma è veramente io ho veramente paura che stasera il garante a mezzanotte dica che google form sia abitato comunque il problema adesso che ci ritroviamo davanti e cosa facciamo migriamo non migriamo non facciamo niente sicuramente tutti sicuramente noi fortunati che siamo reduci da google analytics possiamo iniziare un po sotto l'ombrellone guardarci un po qualche alternativa ed è quello che facciamo adesso adesso facciamo ve ne dico tre un'alternativa molto carina se alcuni di voi vi ho già beccati che nel gruppo di nextcloud che hanno nextcloud forms come applicazione installabile cos'è nextcloud è praticamente una suite per l'ufficio di per dirla dropbox nel senso c'è boot file te li prendi e te li scarichi con anche possibilità di avere una rubrica un calendario quindi come se fosse un google calendar se vuoi per chi vuole perché adesso dico questi termini perché chiaramente sono di uso comune però chiaramente nasce per fare altro non per copiare google calendar e dropbox però è per esempio nella vita privata nel mio telefono non ho nessun collegamento a google ho la condivisione dei file su tutti i miei dispositivi con una nextcloud che sta qua dietro nella mia biblioteca i miei contatti rubrica sono anche sincronizzati su nextcloud e le mie immagini anche e i form ogni tanto quando devo farli ogni tanto ho installato quest'app software libero e li faccio anche così nextcloud forms funziona niente da dire però capisco che spesso serve un questionario usa i jet vedo sul sito mi da il questionario lo do in giro poi me ne vado e lo cancello questo su questa cosa ma qua secondo me cryptpad che non sto a pronunciare perché è un problema di consonanti vicine cryptpad forms secondo me è un ottimo progetto perché? perché cifra tutto cioè voi fate questo questionario sulla pizza preferita dei vostri partecipanti non vi registrate neanche non non dovete installarvelo non dovete fare niente visitate un sito cryptpad lo configurate aggiungendo domande e le date alle persone e le persone sul loro computer effettuano una cifratura basata sull'indirizzo quindi chi ha l'indirizzo sul suo computer cifra le domande e poi ve le dà quindi il signor cryptpad la persona che vi sta dando il sito non può leggere le risposte questa è una cosa molto interessante ed è usa e getta veramente comodo interfaccia in italiano entrambi sia di nextcloud forms che di cryptpad io le uso tutte e due per scopi diversi belli belli ma signori miei e signore il nostro beniamino se vogliamo fare surveying se vogliamo fare questionari professionali multilingua non nel senso che l'interfaccia è multilingua nel senso che le domande stesse se voglio posso tradurle in multilingua se voglio poter aggiungere più utenti e far sì che un utente possa correggere le risposte uno possa analizzare le statistiche e dividere questa è una cosa che piace al GDPR avere persone che non è che fanno tutto ma avere una persona responsabile per le domande una persona per le risposte una persona che insomma dividere non è male l'IMSurvey è uno strumento veramente libero ma che non ha nulla di invidiare a altri strumenti altrettanto professionali per fare tutte queste cose qua quindi la prima domanda che viene in mente è come lo provo l'IMSurvey l'IMSurvey nasce come qualsiasi altro software libero in tre modalità o te lo installi sul tuo computer che tieni in bagno non so che l'ho sempre acceso e questa è la modalità self host cioè da sotto lo metti da qualche parte il vantaggio è che controlli tutto e non devi niente a nessuno non devi non devi non hai costi di licenza non hai costi di non hai altre persone che leggono i tuoi dati non hai niente di niente tutto da te al GDPR piace un sacco oppure l'on premise che è un po' una via di mezzo cioè tu alzi il telefono chiami uno ti dici senti ti pago mi metti l'IMSurvey qua in bagno mi fai un contratto di ogni anno mi fai tu un'assistenza entri dal mio bagno me lo metti a posto magari decidiamo un orario questo qua si chiama on premise per il software libero va anche molto 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 così il cliente ha comunque non ha problema di fornitori che si agganciano a te come una tenia nel senso che se voglio mi stanco del fornitore gigino chiamo il fornitore Gianluca o Giampiera in questo momento switcho fornitore e i dati rimangono comunque da me praticamente non devo migrare niente oppure as a service questa è l'opzione un po' più pigra io pago qualcuno per non fare niente e usare la sua infrastruttura per metterla in survey da lui vi consiglio almeno di farlo con una persona che abbia una sede in Germania o in Italia o in Papalia o in Europlia insomma decidete un posto in cui tengano al GDPR e che vi firmino un contratto e che vi diano questa cosa qua oppure gratuitamente vostro cugino c'ha la Lime Survey vi dà la Lime Survey però questo è un altro discorso che sappiamo tutti non c'entra niente Lime Survey di per sé ripeto se vuole vogliamo installarcelo in cantina o sul computer o sul nostro server c'è il tasto scarica gratuito non devo fare niente ripetiamo perché ci permettono di fare questa cosa perché alla società che sviluppa Lime Survey piace che viene adottato perché più persone lo adottano più persone se trovano un problema poi sono obbligate a dare la loro correzione alla community se distribuiscono questo software ci sono due versioni chiaramente se volete la versione all'ultimo grido scegliete il primo pulsante se vogliete la versione più stabile perché diciamocelo nelle aziende spesso non voglio l'ultima versione io voglio che non sia moderatamente nuova in senso gli aggiornamenti di sicurezza ci siano ma non che ci sia ogni singola nuova funzionalità mai testata dentro ecco io consiglio la versione LTS che è la versione stabile detto questo è un software veramente facile da installare uguale a Lime Survey come architettura quindi nessuno avrà problemi e addirittura per chi segue questo webinar io vi ho messo su adesso probabilmente mi distruggeranno per questa cosa questo è il mio server il mio sito personale io vi lascio qua questo indirizzo ve lo metto anche in chat survey.gitpool.it questo è il mio sito personale ve lo scrivo anche in chat come ho già detto eccolo qua ho sbagliato non mi aiutate non scrivetelo a voi mi raccomando ecco qua scherzo questo è il mio indirizzo se andate su slash admin ve lo metto così siamo tutti comodi che non vogliamo fare niente lo provo anche un attimo potete usare queste credenziali non fate già danni vi prego però provate usate queste credenziali test.webinar e webinar fighissimo 1,2,3 queste sono le credenziali che io vi ho dedicato per questa serata la politica della privacy di questa cosa è tutti i dati che mettete saranno pubblici subito quindi non ho intenzione di sentire la mentele e soprattutto tutti i dati che metterete saranno distrutti questa notte e la password è cambiata quindi insieme adesso insieme potremo guardare l'imsurvey comunque con più insomma meno avere uno che parla che dice cosa a caso non è mai molto piacevole però prima di cominciare a fare il mondo dei questionari c'è una regola d'oro che comunque è bene rispettare cioè la regola d'oro è non sprechiamo il nostro tempo nel usare subito l'interfaccia per fare il nostro questionario finale il mio consiglio è prendete un file di testo grezzo e iniziate a progettare il vostro questionario domande risposte domande risposte domande risposte e fatelo girare fra i colleghi questo veramente vi fa risparmiare un sacco di tempo perché fare questa cosa direttamente in piattaforma non ha molto senso magari su google form è ok più un giocattolino ancora senso però l'imsurvey è un po' avanzato mettersi a a stravolgere le domande ma chi ve lo fa fare fate prima uno scheletro e poi lo implementate se no non è molto furbo secondo me per il nostro tempo che è prezioso per condividere il testo grezzo consiglio etherpad voi cercate etherpad esce subito un sito in cui viene uno schermo bianco con del testo voi ci scrivete tutto il testo che volete senza mettere corsivi grassetti proprio solo appunti così fate il vostro appunto del questionario e fra l'altro come ho fatto io a crearvi un'utenza semplicemente vi ho creato un'utenza cosa molto interessante è che non c'è bisogno di mettere subito una password per l'utente ma gliela manda via mail quindi se avete poi il vostro ufficio vi mettete la limesurvey avete 3000 utenti basta che mettete insomma le mail o le importate e poi lui manda a 3000 persone il link per mettersi la password così voi non la sapete e il GDPR è ancora più contento questo è abbastanza banale ma lo dico perché alcuni strumenti non ce l'hanno se poi volete rendere un utente super amministratore la prima cosa che sicuramente bisogna imparare a fare è dove trovare la spunta quindi una volta che avete davanti la limesurvey l'interfaccia degli utenti seconda cosa questa non la la potete vedere lì ma ve la dico cosa ho fatto io avete questa schermata e gli dite date i privilegi di amministrazione illimitati al tecnico che ne so così può fare quello che vuole e iniziamo agli altri a dare privilegi meno importanti questa è la seconda cosa che dico di limesurvey quando uno se la installa è importantissimo permettere di creare utenti poco privilegiati per esempio il vostro utente è stato creato andando su limesurvey e creando un ruolo che mi piaceva un ruolo che ho chiamato creatore di questionari e come permessi vedete quanto è capillare è molto bello limesurvey su questo aspetto permette di dire a ruolo a tutti gli utenti con questo ruolo permettigli di creare questionari ma non permettergli di vedere vedete che c'è view non è spuntato quindi voi non potete vedere tutti gli altri miei questionari io ne ho 60 lì dentro ma voi non li vedete però potete crearne e modificarvi i vostri questa è una cosa molto utile se non ha tanti dipartimenti che non devono trozzare fra loro o ha un'organizzazione comunque o vuole avere degli ospiti come voi adesso questa è l'interfaccia che alcuni di voi vedranno quando saranno amministratori di limesurvey sulla loro piattaforma che voi la paghiate che voi l'abbiate messa in cantina che voi insomma se siete amministratori questo è quello che vedete notate che c'è uno store anche qui come in matomo c'è uno store di componenti aggiuntivi credo siano tutti gratuiti comunque tutti liberi anche se sono a pagamento comunque sono liberi quindi se sono a pagamento significa che ve lo danno e poi vi danno assistenza per gli aggiornamenti per voi e questa invece è l'interfaccia che vedete voi per esempio con l'utente demo io ho messo solo possibilità di creare questionari infatti in alto vedete il pulsante e elencare questionari e infatti qui vedete la possibilità di elencare questo è un po' banale quindi andiamo avanti la parte invece più ostica è quando chi di voi sta provando a creare il questionario vedrà qua davanti già alcune cose un po' strane l'import chiaramente lo lasciate perdere a meno che non abbiate fatto un backup il giorno prima la lingua di base è intelligente metterla perché di default se siamo in italiano mettiamo italiano perché poi avremo la possibilità di aggiungere traduzioni quindi la lingua principale è meglio sceglierla subito corretta allo stesso tempo se voi siete la persona tecnica che sta creando i questionari e assegnandoli alle persone questo è il momento adatto per scegliere chi è l'amministratore che non è scontato che siate voi quindi queste sono tre cose stupide che però se le fate subito vi risparmiano un sacco di tempo perché andarsela a trovare dopo ci mettete tutto il tempo mi raccomando nel momento in cui voi create un questionario alcune cose dell'interfaccia magari si possono avere delle critiche l'ingranaggio e il tasto di modifica insomma ci sono delle piccole cose che se le vediamo adesso insieme renderanno più amichevole questo strumento per esempio il menu laterale dove quando apro un questionario mi ritrovo un menu laterale che mi fa fare delle cose anche quello all'inizio è veramente uno scoglio insormontabile per molte persone e anche per me ci ho messo un po' all'inizio capire che si può cliccare quindi ho un menu laterale ma con due modalità vedete ho un menu laterale che mi dà settings c'è anche in italiano impostazioni oppure la struttura cioè in settings mi ritrovo le varie opzioni elenco domande elenco risposte in struttura invece mi vedo la struttura proprio delle domande e basta così me le posso ordinare me le posso aggiungere quindi quando io voglio aggiungere domande cliccate su struttura quando voglio cambiare qualsiasi altra cosa fate su settings e questo già vi assicuro che magari a qualcuno ho fatto risparmiare 40 minuti sicuramente e altra cosa che fa perdere un botto di tempo con questa interfaccia utente che ammetto sicuramente non l'ha pensata una persona non so che abituata con altre cose non le cito il fatto che le domande vivono in gruppi quindi prima faccio un gruppo di domande tipo info su di te e poi metto il nome cognome metto tutte le domande poi faccio un altro gruppo feedback ti è piaciuto non ti è piaciuto e tutte le sottodomande quindi prima si crea un gruppo poi si creano le domande questa è un'altra cosa che non mi ringraziate non mi fate statue altri 40 minuti ve li ho fatti risparmiare perché non è così intuitivo però in realtà una volta compreso bello che è fatto una cosa che non fa nessuno agli inizi ma lo impari circa tre anni dopo e dici ah cavolo avrei potuto farlo perché mia nonna non me l'ha detto che potevo farlo ecco questa è la cosa che la nonna dovrebbe dire di fare compilare il campo codice cioè se metto una domanda nuova tipo il nome nel codice dategli una roba sensata tipo name se mettete il cognome mettete nel codice una roba sensata tipo surname questa sembra una roba veramente idiota non ti prego non mi dite che sono veramente ci vorreste fare altro che ascoltare sta roba perché scommetto che nessuno lo stava per fare questo è utile perché quando poi si faranno domande condizionali tipo mostra questa domanda solo se hai inserito che ha 18 anni e solo se il suo cognome inizia con la y tutte queste cose se si mette un codice sensato qua saranno molto semplici da fare se no sarà una cosa incomprensibile da leggere quindi prima cosa che si fa codice e tipo di domanda e poi la domanda che è il campo sotto che vedete già e iniziate anche mettere il testo d'aiuto che è la tab help queste sono le prime cose che uno fa in qualsiasi questionario e che qui si trovano in questa posizione bisogna dire che sui tipi di domande signore e signore la M-Survey va fortissimo va fortissimo qualsiasi tipo di domanda io l'ho sempre trovata risposte a 5 punti bottoni verdi blu fucsia personalizzabili matrici di domande matriosche checkbox in cui c'è un'opzione e poi posso commentarlo è veramente 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 ricco di qualsiasi tipo di domanda e neanche un po' un bosco in cui comunque iniziate a vedere questo menu che vi sto mostrando i cassetti e i tipi di domande c'è singola risposta gli array che sarebbero le matrici risposta multipla risposte aperte e mask questions sono le risposte chiuse adesso le vediamo tutte questo per esempio se volete fare una domanda in cui gli fate selezionare una posizione se la mette usa già open street map quindi siete già tutto libero se volete non dovete inventarvi da zero il picker della data non dovete inventarvi da zero le domande si no non dovete implementarvi da zero il caricamento di file non dovete implementarvi da zero per chiedergli se gli piacciono i fagiani o le ostriche poi potete mettere le icone le risposte qualsiasi cavolata è quasi sempre consentita una cosa però vi prego vi scoggiuro vi prego non abusate del drag and drop non abusate cioè questa è un tipo di domanda che piace a tutti quelli che metteranno l'ime survey perché uno la vede questo tipo di domanda e la mette cioè è troppo tenero uno è la possibilità di avere domande cioè in senso opzioni a sinistra dragarle e dropparle nel mio ordine a destra per capire se mi piace di più il rosso il verde o il blu no cioè ma no cioè spesso ci accorgiamo che magari bastava per ognuno un voto da 1 a 5 ma così fa veramente perdere tempo all'utente cioè è veramente audio poi sul mobile è scomodissimo non lo fate cioè veramente lo uso sempre io cioè io lo dico a me stesso questa cosa lo uso sempre ma non lo usiamo facciamo una pausa usiamo altre è sicuramente il tipo di domanda più abusato il lime survey per fare qualsiasi cosa inutile è il consiglio distintivo di lime survey quando vedete questa domanda uno sta usando lime survey vi dico un'altra cosa nel singolo questionario potete poi prendere un utente magari fra una settimana assumete una nuova persona questo nuovo utente chiaramente potete dargli dei privilegi questa cosa si trova nel menu dei privilegi nel menu settings poi i privilegi di lime survey e questa è per esempio i permissions scusate lo vedete qua in alto permissions il lime survey una cosa molto interessante vedete è permesso di vedere solo le statistiche una cosa che disattivo che non viene usata di solito il permesso per vedere dove cavolo è qua le quota vedete questa è una funzionalità che gli utenti inesperti la vedono e si confondono quindi io la disattivo così non la mentele se avete nuovi utenti un po' poco esperti potete disattivare un po' di queste cose se gli date in mano un questionario ed ecco la parte che anche qui avrei voluto avrei voluto avere il nonno che mi diceva come usare questa parte quando attivate un questionario lime survey perché avete fatto tutti i gruppi avete fatto tutte le domande avete aggiunto tutte le opzioni delle domande avete fatto vedere al vostro partner avete fatto vedere ai vostri figli al vostro capo se sono tutti d'accordo attivate il questionario non prima ecco non fate la prima non si attiva il questionario se non è pronto questa cosa eravamo abbastanza abituati in google form a fare un po' il cavolo che ci pareva su strumenti più avanzati questa è veramente una cattiva abitudine non si fa e si può fare ma non si fa quindi prima di cliccare questo bellissimo tasto verde molto invitante pensiamoci un attimino e vediamo bene di aver fatto tutto giusto tutto il questionario comunque di per sé se mettete la prima spunta abilita risposte anonime l'unica cosa che succede è che viene un'informativa in alto con su scritto guarda che le opzioni sono anonime questo non è che vi proibisce e vi incatena un palo se poi mettete a mano una domanda tipo inseriscimi il codice fiscale non può prevedere che voi poi fate una cosa contro questa opzione quindi gli dite che è anonimo ma poi fate domande no semplicemente questo attiva il disclaimer ed è comodo perché già ha molti lingua questo disclaimer quindi uno mette sì o no salva l'indirizzo IP altra cosa che non è molto utile dire di sì è utile dire di sì se avete un questionario molto adottato nel mondo e magari avete molto spam ma giustificare la raccolta dell'indirizzo IP comunque è dovuta quindi un attimo a scrivere sì in questa opzione un'altra cosa save timings salva il tempo impiegato per compilare le risposte questo è un dato anonimo ed è comodo per vedere in questa risposta uno ci ha messo 30 secondi in questa risposta 10 e in tutto il questionario ci ha messo un secondo e questo è utile per eliminare certe spam e anche salvare quando è stato compilato attenzione ad abilitare quest'opzione date stamp cioè salvare quando esattamente il questionario è stato iniziato e terminato perché spesso vi permette di ricondurvi a chi avevate invitato per la compilazione quindi dipende un po' da come state gestendo gli inviti ma se è un'elezione o che ne so comunque le state mandando in ordine alfabetico magari disattiverei quest'opzione per aumentare ancora il livello di privacy l'ultima e la più strana è il referer rule quello che praticamente vi dice da dove è arrivato l'utente questo anche qui non c'è un buon motivo per attivarlo a meno che non non volete sapere se uno è arrivato dal vostro sito o da un altro vostro sito se no è abbastanza inutile un'altra cosa dopo che attivate il questionario e lo so viene mostrato questo muro di testo in cui vi raccontate c'era una volta un questionario sei sicuro che vuoi continuare oppure che vuoi passare alla modalità ad invito queste sono due modalità cioè se cliccate su continua una volta che avete attivato il questionario semplicemente avete attivato un questionario che potete mandare in giro se invece cliccate sul pulsante a sinistra cioè switch passa alla modalità ad accesso chiuso si abilita un'altra funzionalità molto carina con un elenco chiuso di persone a cui voi dovete mettere specificatamente per esempio la mail e solo quelle persone riceveranno l'invito e potranno compilare tra l'altro in modo anonimo poi se volete non riconducibile quindi avete elenco degli inviti non riconducibile all'elenco delle partecipazioni questa è una cosa utile ma di solito non ci serve per casi particolari quindi si clicca continua di solito anche qui abbiamo risparmiato un sacco di tempo non ho detto abbastanza cambiare le domande una volta pubblicato il questionario è una pratica terribile non facciamolo cambiare i testi invece è perfettamente lescito cambiare i testi modificare i testi tradurre i testi questo va perfetto aggiungere domande eliminare domande cambiare i sottotipi delle domande terribile idea si può fare ve lo dico mi dispiace dirlo non dovrei per deformazione professionale non dovrei ma si può fare è una cattiva pratica si può fare si disattiva il questionario disattiva non altro ci sono altre opzioni si esportano le domande le risposte a questo punto fate tutte le vostre modifiche poi reimportate le domande e riattivate il questionario questo perché avete un questionario professionale su un database MySQL relazionale quindi non può mettersi a caso a tenere le risposte cambiando a caso le domande perché non funziona così dovete fare questo procedimento fatelo bene subito poi lo lanciate e lo chiudete quando è finito e basta c'è chi dice che la parte delle statistiche fa un po' schifo in verità da poco c'è la modalità semplice che tu clicchi un pulsante e ti genera tutte le statistiche anonimizzate quindi non ti mostra le risposte aperte perché sarebbe una cosa abbastanza stupida però puoi farlo se vai esplicitamente a spuntare la risposta aperta poi ti fa anche l'export di quello ma se no non te lo fa anche sull'esportazione Lime Survey va fortissimo qualsiasi formato avete Libre Office avete Microsoft Word avete Microsoft Excel avete altri strumenti proprietari terribili che iniziano con Microsoft e finiscono per Excel avete una pagina HTML insomma tante opzioni di esportazione e su questo non ho veramente nulla da dire non ho mai trovato nulla di più completo mi piace fantastico e e e questo è quanto volevo solo dire questa cosa qua in caso di problemi ha un'ottima community e un'ottima documentazione questo strumento esiste dagli albori che da veramente tantissimo tempo andiamo a vedere poi su Wikipedia tutta la sua storia che comunque è un strumento abbastanza adottato non farete difficoltà nel vostro motore di ricerca a trovare una risposta a una vostra domanda per esempio inizio a dire che sui tipi di domanda per esempio alcuni lamentano adesso torno proprio indietro alcuni lamentano che ci sono tante cavolate ma se voglio per esempio limitare la validazione dell'email non c'è una maschera chiusa per questo sinceramente io sono d'accordo con questa scelta politica perché non ho mai trovato due persone d'accordo sulla validazione di come dovrebbe essere fatta la validazione per mail quindi uno sul proprio motore di ricerca si guarda la documentazione di Lime Survey che copre con le espressioni irregolari copia e incolla un codicino per la validazione delle mail come più ti piace lo prendi lo metti nel campo apposito della tua domanda e lui come lo desideri te lo valida io sinceramente sono molto permissivo perché mi piace che la gente possa avere qualsiasi indirizzo email poi tanto se voleva dati falsi te li metteva quindi un po' di fiducia all'utente gliela do sempre altri invece limitano moltissimo tipo solo.com .it .eu quindi su questa cosa non farete difficoltà col vostro motore di ricerca a trovare le risposte e questo sembra una cavolata ma scrivendolo in inglese si trova ancora prima avete difficoltà volete scrivere in italiano c'è il forum dell'Italian Linux Society tranquillamente a disposizione uno aggiunge una domanda poi lo spostiamo nella sezione più adeguata non vi tiriamo pomodori se uno non sa bene come fare non c'è problema e comunque io mi aspetto che a Linux Day 2022 di quest'anno che si terrà a ottobre che io ho già messo in calendario adesso sul telefono 22 ottobre segniamocelo ci sarà questa conferenza nazionale su software libero che ormai ha raggiunto un livello di edizioni molto notevole perché è una conferenza intanto che si svolge ogni anno nella nella vostra città quasi sicuramente c'è per esempio a Milano a Torino a Bari insomma a volte ci sono 60 70 80 città italiane che nello stesso giorno organizzano una conferenza di 4 tracce per 4 ore spesso sono cose anche abbastanza grosse quindi vi invito ad attivarvi nella vostra community vi siete interessati a Lime Survey vi siete interessati a Matomo andate a vedere la vostra community locale dove si sta organizzando un bel Linux Day e proponetegli le cose che volete sentire perché alla fine siamo noi partecipanti che organizziamo un po' queste conferenze quindi io qui ringrazio chi in questo momento vuole andare in chat mettere un insulto una domanda io sono qua ancora per un po' di tempo per rispondere a qualsiasi domanda io ho visto dalla piattaforma che qualcuno ha già fatto delle domande sulla Lime Survey che ho messo a disposizione spero che nessuno si offenderà se uno vuole indietro i suoi dati te li mando basta chiedermeli però di per sé io pensavo di chiuderla stanotte non pensavo di tirare su un campeggio e ospitare tutti a casa mia ecco però insomma se vi ha affascinato questo software libero se il garante a mezzanotte non si sveglia dicendo che bisogna fare qualcos'altro comunque è tutta roba riguadagnata allora Valerio c'è Stefano che durante il tuo webinar ha scritto perché stava cercando le estensioni si si e andando nella community di Lime Survey dice che non le trova allora ho visto che ogni tanto di per sé la parte di mi sembra che il dominio sia account.limesurvey.org slash extensions ma io penso che extensions ma io penso che sia andato anche lui lì e magari ci sia qualche problema io in realtà adesso lo linko perché qui c'è tutta la parte di estensioni di Lime Survey che fornisce in 404 magari un errore del mio sito comunque qui c'è tutta la parte di estensioni tutto il catalogo per esempio c'è LIDAP molti hanno una società molto grossa con un login unificato aziendale e qui c'è questa possibilità di agganciarsi al proprio login aziendale uno non deve creare 3000 account ma a quello aziendale oppure altri tipi di estensioni per creare delle note aggiuntive per cambiare il tema io sinceramente non ho mai cambiato il tema ho aggiunto del CSS cioè dello stile del web per cambiare qualcosina per personalizzarlo se avete un web designer si trova bene cambiando il CSS sinceramente non ho mai cambiato il tema si può cambiare il logo si sostituisce si può cambiare tutto non dovete per forza lasciare lì il logo online survey non dovete per forza che ci sia scritto online survey basta semplicemente che se fate una modifica la rilasciate questo questo è quanto ok allora aspettiamo qualche altra domanda nel frattempo io vorrei anche allargare un po' il campo magari anche al precedente webinar se qualcuno ha qualche domanda da fare su questo Google Analytics quindi siamo aperti anche a queste nel frattempo ti faccio una domanda io le aziende le aziende si stanno attivando visto che c'è Google G4 il programmatore che dice ok va bene te lo installo così almeno cominciamo a prendere dati nel frattempo no? cosa deve fare un'azienda? ecco sicuramente moltissime aziende hanno in casa la persona che è un po' nerd che smanetta un po' con tutta alternativa un po' sfigata che non usa le app di Google ma usa tutte le cose strane cita frasi a caso tipo Linea Joss F Droid Nextcloud queste cose qua ecco quel dipendente lì spesso potrebbe almeno dare qualche aiutino spesso quindi non licenziamolo subito perché a volte magari ci salva non bullizziamolo per una volta poverino al suo momento di gloria finalmente quindi di per sé iniziare a diminuire il numero di servizi che si appoggiano completamente a questi grossi provider statunitensi e iniziare ad aumentare che aumentare di per sé non è un bene l'importante è diminuire dall'altra parte ripeto quindi aumentare dall'altra parte è ancora meglio per voi ma non necessariamente per l'utente comunque di per sé migrare appunto a software libero consiglio perché vi darà meno grattacapi e possibilmente sulla vostra infrastruttura quindi o self hosting quindi avete il vostro dipendente o la vostra dipendente smanettona che vi installa questi componenti sulla vostra infrastruttura aziendale oppure modalità on premise c'è qualcun altro magari avete nel vostro stesso quartiere una società di consulenza che vi fa questa cosa per voi o magari la società ufficiale che magari qualcosa su Lime Survey lo saprà vi può dare una mano chiaramente adesso non sono qui per promuovere Lime Survey la società di Lime Survey sono qua per promuovere il loro questo software libero però se uno vuole affidarsi a loro per carità secondo me non è super conveniente affidarsi alla società di Lime Survey prendere una istanza negli Stati Uniti e fare la stessa cosa cioè non c'è molto vantaggio rispetto a passare dal Google Form ecco quindi ok allora vediamo se ci sono ancora domande se no chiudiamo siamo già anche al termine siamo al termine del webinar vediamo se c'è qualcun altro qualche curiosità oppure se è stato veramente chiaro siamo stati io ringrazio mi spiace la Sandra che sta scrivendo ma poi tanto ai nostri amici di Rete Informatica pubblicheranno il video sempre siete puntuali non ho mai visto nessuno pubblicare il video il giorno dopo quindi anche il giorno stesso il garante si guarda i video e poi si esprime incredibile e quindi infatti ricordo che da domani il webinar sarà caricato sul nostro canale YouTube quindi vi lascio anche il link poi magari c'è qualche persona veramente veramente di nicchia che vuole usare Peertube per carità magari carichiamo anche il video su Peertube non c'è problema però di per sé appunto ringrazio veramente ancora tanto la Rete Informatica Lavoro che ci ospita su questi argomenti super spinosi che a volte causa queste rivoluzioni col garanto non è causa vostra però adesso ci odieranno tutti io ho già cambiato indirizzo non ha cambiato il pubicilio e quindi va bene dai speriamo che non capiti nulla come sempre invito tutti a andare su Rete Informatica Lavoro se state cercando lavoro quindi consultate tutti i nostri le nostre offerte di lavoro vi invito come sempre a seguirci sui nostri canali social e vi raccomando la nostra survey su Google Port e buon software libero abbiamo pian pianino piano che troppo fa male al software libero va bene grazie mille grazie a tutti ci vediamo al prossimo webinar buona serata grazie ciao 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 ciao